Un modo per limitare ulteriormente lo scempio dell'abbandono dei rifiuti, che da tempo siamo abituati a vedere sul ciglio della strada, ora c'è ed è semplicissimo da adottare. È presente infatti da qualche settimana la nuova versione del Il Rifiutologo, l'app del gruppo ERA, messa in piedi da marche multiservizi, che permette ai cittadini di avere informazioni di dettaglio sui servizi ambientali vicino alla propria posizione. L'app è disponibile gratuitamente per i dispositivi Apple e Android e una volta scaricata sono necessari alcuni passaggi obbligatori, come scegliere a quali servizi ambientali si è interessati, tra case e business, il nome del comune, la via e il numero civico dell'abitazione o dell'attività. Si accede dopodiché alla pagina iniziale dove sono presenti le diverse sezioni. Cerca un rifiuto, segnala un problema, porta a porta e ritiro ingombranti. Cliccando su Cerca un rifiuto si accede ad un elenco in ordine alfabetico di oggetti e di tutti i tipi di materiali e selezionando la voce interessata si possono notare le modalità di smaltimento più vicine a noi. Andando però sulle informazioni del materiale scelto, ci vengono forniti maggiori dettagli su quali rifiuti possono essere conferiti o meno e delle semplici regole che devono essere rispettate. Tornando alla home è possibile inoltre cliccare sulla sezione segnala un problema. App semplicissima c'è una sezione segnala un rifiuto, quindi invito veramente da oggi tutti i cittadini appena vedono qualche rifiuto per strada, si apre, si può scattare la foto, foto che è georeferenziata e quindi Marche Multiservizi immediatamente può intervenire. Disponibile inoltre per i cittadini la sezione porta a porta, dalla quale si può venire a conoscenza dei giorni e degli orari della raccolta dei rifiuti davanti alla propria abitazione. Sull'app è presente anche la sezione ritiro ingombranti, dove è possibile prenotare il ritiro a domicilio o chiamando da telefono fisso cellulare al numero verde oppure visitando il sito www.gruppomarchemultiservizi.it Un'app che invita i cittadini non solo a conoscere meglio dove smaltire i rifiuti prodotti in casa ma anche a rispettare l'ambiente e migliorare la qualità della propria vita.